Ciao, benvenuti in mio podcasting stagione 11 Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo Fate riferimento al blog Mia Fantascienza Mio Radar e Paleo Contatto Ciao Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcasting stagione 11 Episodio 130, l'ultimo della stagione 11 Volete la pace oppure i condizionatori accesi Del Russia-Ukraine War Meeting in Toronto del 12 maggio 2022 E troviamo in discussione in Canada sul tema della guerra in Ucraina Una serie di personaggi Intanto abbiamo la signora Janie Stein che è moderatrice Poi abbiamo Stephen Wolt e John Mersheimer che sono professori all'Università di Chicago Poi abbiamo Michael McFall che è un ambasciatore americano Poi abbiamo Rodoslav Sikorsky, ex ministro della difesa polacco Poi abbiamo una votazione online sulle tesi proposte Ecco una bella trasmissione online Tutta in inglese che io vi invito di andare a fruire Il link lo trovate praticamente in descrizione di questo file Sarete catapultati alla mia bloggata Dove c'è appunto questa trasmissione online in YouTube Dal Canada tutta in inglese All'inglese è facile Se non avete le capacità per andare a fruire questi contenuti Io li ho tradotti tutti Quindi trovate le trascrizioni in italiano E io quindi che cosa vi sto a dire in questo breve podcast Ecco, cominciamo a ricordare le tesi del professor Mersheimer Che è il padre del pivot in China Professore di relazione internazionale all'università di Chicago Che per i nostri politici italiani Quanto per il servizio segreto della commissione parlamentare sui servizi segreti Fa sentire quello che dice Per gli italiani della commissione sarebbe niente poco quali Meno che John Mersheimer un comunista di Putin Dunque, per questa è una perla Va bene Il professore, praticamente John Mersheimer Ha un certo periodo di tempo circa 20-10 minuti Un quarto d'ora per risporre rapidamente la sua tesi Che io qui ve la sto rapidamente a sintetizzare Dunque, il professore dice che non parleremo Non vuole parlare di chi ha iniziato cosa Non discuterà di chi deve essere criticato E non ci occuperemo di Putin Se Putin è buono o cattivo Ma discuteremo di come potrebbe finire al meglio questa crisi in Ucraina Questa non è una crisi geopolitica Questo è un disastro geopolitico Se guardate in Ucraina cosa sta accadendo Dice Mersheimer Questo stato sta venendo distrutto pezzo per pezzo Un po' alla volta Potete solo immaginare come potrebbe andare a finire Il Fondo Monetario Internazionale ha già stimato per il momento circa 6.000 miliardi di danni in Ucraina Migliaia di morti 5 milioni di profughi hanno lasciato l'Ucraina Questa è alla data del 12 di maggio 2022 E poi dice il professor Mersheimer Ci sono poi 30 milioni di ucraini che cercano di sopravvivere appunto in zone di guerra L'interesse del popolo ucraino è di fermare questa guerra Ma il peggio è che questa guerra regionale tra Ucraina e Russia Possiamo svilupparsi in una guerra tra USA contro Russia Questa è una grossa minaccia Sappiamo bene Nella guerra fredda quali possono essere i rischi di un conflitto nucleare tra grandi potenze atomiche A maggior ragione se la guerra in Ucraina tra Ucraini e Russia si prolungherà Cresceranno i rischi di un'escalation USA contro Russia Questo perché l'opzione nucleare è tattica Un'opzione militare sul tavolo delle possibilità Se voi pensate che questa cosa non possa essere possibile Fareste un errore fondamentale di valutazione Per l'obiettivo americano in questa guerra in Ucraina Infliggere all'Ucraina una sconfitta plateale Infliggere dall'Ucraina Una sconfitta plateale decisiva E danneggiare l'economia russa Riducendola ai bisogni essenziali Tramite una serie di sanzioni a tappeto Se ascoltate il generale Austin Che è il segretario della difesa USA Austin parla chiaramente di mettere al tappeto la Russia Battendola fuori dal tappeto delle grandi potenze sulla terra Questa politica estera americana è da malati di mente In questo modo si pone ai russi una minaccia esistenziale Questo vuol dire che i russi non avranno dubbi Nell'usare armi nucleari e tattiche E forse anche strategiche Nessuno sa bene come e quando accadrà Ma questa cosa è una eventualità molto reale Il direttore della CIA ha detto chiaramente al congresso Che è uno dei due scenari in cui la Russia potrebbe usare armi nucleari E rischio di una sconfitta militare russa in Ucraina Ma gli USA hanno come obiettivo specifico Imporre alla Russia una grossa sconfitta in Ucraina Quindi c'è un paradosso perverso Più gli USA fanno bene sul campo di battaglia Tramite l'azione degli ucraini Tanto più è probabile che i russi scalino all'improvviso Rapidamente nell'uso di armi nucleari e tattiche in Ucraina Parole del professor Mersheimer Un conflitto nucleare e tattico in Ucraina Che potrebbe anche scalare uno sconto termonucleare Tra Russia contro USA e NATO Per questa regione bisogna che la guerra in Ucraina Trovi una fine per far risolvere il rischio nucleare e tattico strategico Questo vuol dire prendere in considerazione gli interessi nazionali russi Ma non vuol dire ignorare gli interessi ucraini La regione per cui occorre prendere in considerazione gli interessi russi è banale I russi hanno iniziato una guerra per l'Ucraina Se non capiamo quali sono gli interessi nazionali russi E del perché i russi hanno iniziato una guerra in Ucraina Non riusciremo mai a fermare la guerra in Ucraina Abbattendo i rischi nucleari di un conflitto Putin è responsabile di questa guerra Putin è un imperialista Vuole creare una grande Russia Oppure ricreare l'Urs Per cui è chiaro che Putin ha invaso l'Ucraina Perché la vuole incorporare nella Russia In qualche modo Non ci sono evidenze che Putin ritenga Che questa guerra sia stata un suo obiettivo desiderato Tantomeno ci sono evidenze Su quali siano gli obiettivi di Putin Mentre sono chiarissimi gli obiettivi USA Estirpare l'Ucraina dalla CSI In nome della democrazia Con un regime change Inserire l'Ucraina nella UE e nella NATO Trasformare l'Ucraina in un baluardo NATO Contro la Russia Ecco Mentre se si ascolta i discorsi di Putin Che è stato chiarissimo Putin ha sempre detto Che è inaccettabile l'uscita dell'Ucraina Dalla CSI E la trasformazione dell'Ucraina In un avamposto Ne Ecco Qui continua poi Praticamente Non vi sto a dire altro Perché se siete interessati su questi temi Il link lo trovate in descrizione Sarete proiettati Praticamente Alla mia bloggata Dove O ascolterete Praticamente Tutta la bella trasmissione Di informazioni Fatta in Canada E poi trasmessa in YouTube In inglese Quindi In Canada Quindi Un paese Che non è sicuramente Dell'arbitra di Putin E nemmeno dell'arbitra della Cina E poi Abbiamo con professori americani Dell'Università di Chicago Che Diciamo Non sono sicuramente Né comunisti Né diciamo Impiegati di Putin Ma fanno informazione Ecco Se siete interessati Il link lo trovate in descrizione Anche perché Il punto di come uscire da questa cosa È in una domanda Che poi verrà sviluppata All'interno di questo dibattito Quanto Piccola Deve essere l'Ucraina Per poter lasciare la CSI Ecco Se siete interessati a questi temi Il link lo trovate in descrizione Trovate diciamo Tutta la Relativa Trasmissione Oppure Trovate la sua Traduzione in italiano E Diciamo Nell'ultimissime parte Le ho ragionalmente sintetizzate Perché poi si ripetevano Sempre gli stessi Concetti Per questa puntata È tutto Un saluto Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.